Ci saranno sempre cose che succedono senza che uno possa tenerle sotto controllo. È strano. Entri in un mondo che non ha niente a che fare con te. E sai che da qualche parte lungo la strada potresti cadere. Chiederai di brutto. È questo che uno non riesce a controllare. Non si sa mai quando sta per capitare. Jake Buchan. Sì, lo tengo d'occhio, questo ragazzo. Ha talento. Vedi, lo capisci che intendo? Non c'è che dire, è perfetto. Sì. Questo ragazzo farà una bella carriera. Penso anch'io, infatti, sì. Credo che questo sia il migliore di tutti, sì. In effetti sì. Perché è il migliore? È ovvio. Evidentemente lei non lo sta guardando nel modo appropriato. No, lo sto facendo. Perché è il migliore? È ovvio. Ah, questo ha davvero qualcosa da dire. Qualcosa? Cosa vuol dire qualcosa? Senta. Stavamo trascorrendo una splendida serata prima del suo arrivo, ora non per sembrare le scortese, ma potrebbe andare... Fuori dai coglioni. Così è scortese. Io volevo solo sapere di che cazzo stavate parlando. Non dovete essere scortesi, o no? Certo. Ha ragione. Allora, per cortesia, potrebbe andarsene a fanculo e lasciarci in pace? Se non fossimo qui, cazzone di un vecchio, ti taglierei il culo con un coltello, così bene che non potrebbero più reinfilarti il grasso nelle chiappe. Te lo garantisco, e non finisce qui. Poi ti appenderei a un muro e direi ai pedoni che passano guardate la mia opera migliore! E sai che direbbero? Direbbero assolutamente divino, caro, è ovvio, sì! Direi che questo Frankie Mac farà certo una gran bella carriera.